I responsabili e incoscienti ad agosto in giro nei bar e sui social a dire che il Covid non c'è e stiamo pagando gli effetti di questi comportamenti incivili, gli effetti che rischiano di far precipitare la nostra città in una tragedia. Io credo che debba ancora una volta tornare a dire di avere rispetto per la vita nostra, dei nostri cari, dei nostri familiari e di rispettare i diritti, a cominciare dall'uso delle mascherine e dalla igiene personale.